Ma non per importanza, vi presentiamo una delle più cerebri opere del maestro Giuseppe Rorti, ovvero la Tragliata. Dopo un profondo e toccante preludio, il sipario si apre, mostrando l'elegante salone della casa pericina di Violetta Valeri, dove lei, donna di mondo, attende tutti gli invitati. Violetta saluta tra gli altri Flora Beruolo e Visconte Gastoni, che le presenta Alfredo Germano, spiegandole che è un suo grande ammiratore e che durante la sua recente malattia si era legato spesso nella sua casa per ricevere notizie. Dopo aver chiesto spiegazioni per il comportamento ammirabile di Alfredo, Violetta riemprova il suo protettore, il barone, di non aver avuto la stessa solicitudine del giovane. Tale barone, irritato, mostra il suo disappunto a favore. Poco dopo Violetta propone un bingisi al quale suonisce subito Alfredo, seguito dagli altri invitati che cantano gioiosamente le lodi del vino e dell'amore, col famoso libiamo nelle di Calici. Questa sera ve lo proponiamo interpretato dal trombone d'onore di Antonio Morranti e dal ricordo soprano del maestro Giacomo Diciagli. Buon ascolto. Dirige sempre il maestro Francesco di Mario. Grazie. 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 Grazie.